Ciao a tutti ragazzi, ci ritroviamo per un altro video, guardate qua cosa abbiamo Abbiamo il box della Panini Calciatore ad Arena Linux L 2017-2018 della serie A Questo box qua ora non ne contiene 24 ma ne contiene 14 Ieri ne ho aperti altri 10 che non ho fatto il video però potete vedere cosa ho trovato lì e qua ancora E niente, iniziamo con, oddio, questi qua penso di toglierli Iniziamo ad aprire i pacchetti E niente, abbiamo Mertens, Danilo, gli altri non mi ricordo mai E comunque, ci sono una carta invincibile su 100 bustine 4 top player ogni 50 bustine 9 copie imbattibili, 3 supereroi, 21 stelle ogni 7 bustine E niente, andiamo a prendere il primo pacchetto E niente, ok, intanto ho ricevuto un messaggio beccissimo Allora Cerchiamo Pizzella Plus Palacio Top Plus Andrea Conti del Milan Raja Nainggolan Dalla Roma Riccardo Rodriguez dello Svizzero del Milan Che mi manca E difensore idolo Federico Fazio Che mi manca Un buon 90 ragazzi, iniziamo per bene Andiamo con il secondo Non vi dico i nomi dei giocatori Che ci sono sui, se no Ci stiamo a due notti Allora Non so da che parte è Allora, vediamo Non so come ci sia Vabbè Comunque Rigoni Davide Astori Povero Che è morto a 31 anni Bessa Allison Un portiere molto forte E abbiamo Salomon E Kean Ok Secondo pacchetto Senza speciali Dunque Fazio Lo mettiamo qua E andiamo Con il terzo pacchetto Ragazzi Allora Abbiamo Bastien Allenatore plus Del Benevento Baroni Che mi manca Poi Marco Sau Toloi Castro Castro E difensore Danilo Del Udinese Ok Per intanto Abbiamo solo idoli Però Andrà meglio Spero Ragazzi Perché non voglio solo avere idoli Ad avere almeno Qualcosina Ragazzi Dei rossi Daniele dei rossi Ragazzi Poi abbiamo Raul Albiol Poi abbiamo Anderson Andiamo qua Per la speciale E qua Vabbè Comunque L'avete visto Mi dispiace Non so fare tanti trick Gonzales Gil Dias E Jawara Superdraft Del Napoli Che mi manca E ci sta Ci sta Ragazzi Dopo il terzo pacchetto Abbiamo Un Superdraft Sì Dopo il terzo No Un quarto pacchetto L'avete visto Per secondi Qui se Sì Per secondi Allora Andiamo Con Un altro pacchetto Che non si apre Ma vedendo che parte La speciale Non lo so Non so Che non ci siamo Anche Quindi Ragazzi Calla Come al solito Io sono sfigata Quindi niente A Cremonesi Bonifazzi Inglesi Oh ragazzi Antonio Candreva Stella Dell'Inter Madre 95 Che bra Bellissima Poi dal Genoa Abbiamo Giuric Allenatore E Palacio Top Plus Ragazzi Stella Candreva Antonio Candreva Stella Abbiamo anche Lina Ingolan E lo togliamo Qua E lo mettiamo Qua così Bellissimo Abbiamo Stella Candreva Benissimo Ragazzi Bellissimo Andiamo Per il prossimo pacchetto Speriamo di continuare Su questa data Andere a trovare Un po' di più Non solo idoli Però Non si può Sempre Aver tutto Quindi Abbiamo Un allenatore Un allenatore Dove La speciale Non so Dove Vecchissime Marco Sau Poi abbiamo Marco Festa Carraccelo Penso che Facciamo così Oddio ragazzi Mi fa pena Come le giro Samir Nicola L'allenatore Del crotone No Cosa Sì Del crotone E Stella Inzigni Ragazzi Seconda Stella Seconda Stella Lorenzo Inzigni Bellissima Ragazzi Non ci credo Inzigni Stella Bellissima Andiamo con Un prossimo Parchetto Ragazzi Non ci credo Ancora Inzigni La carta Speciale È qua Allora La mettiamo Per ultima Ecco Scusate Ragazzi Allora Abbiamo Gentiletti Oddio Lopez Simi Pellegrini Young E Zappacosta Idolo Che Ma se non mi sbaglio Mi è andato al Chelsea Zappacosta Non mi ricordo Penso che sia andato Al Chelsea Ma vabbè Acqua Non so Da questo C'è La carta È qua Quindi facciamo così Allora Abbiamo Quagliarella Lucasboy Deiola Aieti Sare Che ho Sì Maurizio Sare E Miguel Veloso Idolo Che mi manca Quindi Bene Andiamo Un prossimo Parchetto Ragazzi Comunque la stella È ogni quanto Non mi ricordo Aspettate che guardo Veloce Stella Oddio Stella Una suoni Sette Izzo Oh scusate Van Derel Murillo Paloschi Gaspar Difensore Idolo Chi è Riccardo Rodriguez Mi manca Sì ragazzi Mi manca È anche Svizzero Quindi Mi piace Mi piace Abbiamo Il prossimo Pacchetto Ragazzi Sono Mediacarico Dov'è La speciale Non mi manco Quindi Bene È così Non so dov'è Però vabbè Piccarelli Strancossa Non lo so Allora Anita Silvestre E qua Poi abbiamo Simeone Top Plus Ramirez Mattia Silvestre E Bernardeschi Super Draft Federico Bernardeschi Che mi dovrebbe Anche lui mancare Abbiamo Ancora Quattro pacchetti Ragazzi Da aprire E per intanto Ragazzi Sta andando Molto Molto Super Bene Allora Andiamo Ancora Con il prossimo Pacchetto Ragazzi Che Non è anche Squash Quanto è bene Non lo so Però comunque Per intanto Mi hanno trovato Due stelle Benissimo Due super Draft Anche Degli Idoli Che mi Ragazzi Abbiamo Suso Poi abbiamo Barberis Marcello Brozovic Questi due Qua L'allenatore Del Cagliari Che non Ricordo se Mi manca Deron Marcello Brozovic E Montolivo Che non So Se Mi Manca Aspettate Che controllo Poi c'è un'altra Casa Perché Non sto Filmando A casa mia Però Sono Abbattie Vediamo Ancora Con il prossimo Ragazzi Non so Perché Pazze Ho sempre Paura Di farvelo Vedere Subito Però Vabbè Abbiamo Gazzolla Bruno Peres No Pepe Peres Poi da qua Abbiamo Castro Queste due Qua L'allenatore Spalletti Owens Che abbiamo E Benassi Che ci manca Idolo Andiamo con il penultimo Paccetto Ragazzi E poi questo video Si concluderà Adesso Vi con l'allenatore Ed è quello Delle Las Verona Abbiamo Il foglietto Comunque È Pecchia Poi abbiamo Anasaldi Penso Si Miranda Verdi Merit Divenatore Nagatomo Nagatomo Yuto Nagatomo Dai ragazzi L'ultimo Paccetto È quello Che ci deve Far sognare Allora Scommodiamo Che non troveremo Niente Come al solito Roden Aspettate che La speciale Non è mezzo Dico La mia Chic L'allenatore Plus Dell'Udinese Del Neri Del Neri Che in tutto Ha 5 Di valutazione So Brian Alderson E Eder Idolo Che Mi manca Anche lui Ragazzi Penso Che sia Finito Non c'abbiamo Più Un pacco Di doppio Sfettate Un paio Qua Ma Non c'abbiamo Niente Anche Come Potete Vedere Il bellissimo Box Della Panini Abbiamo Ciro Mertens Papu Gomez Higuain Bonucci Insigne Penso Che sia Chiesa Non voglio Dire Stupidate E lui Dal Toro Non lo so Dal Torino Anche qua Di fianco Bellissimo Niente Dalle 1 euro Alla bustina Ecco Ragazzi Questo video Finisce qua Voglio 500 No Sì 500 Certo 10 like E vi porterò Il prossimo video Di Calciatori Adrenaline XL 2017 2018 Della serie A Bella raga Che Grazie.